Cari videogiocatori e cari videogiocatrici, siamo sempre su Obscure 2 per la sesta parte. Allora, bisogna riconoscere che l'Obscure 2, questo capitolo, il secondo capitolo, è molto più triste del primo. Cioè, nel senso che i personaggi qui muoiono necessariamente, nel primo i 5 protagonisti potevano morire ma potevamo anche salvarli, infatti io li avevo salvati tutti, mentre qui è tutto scriptato e non si può fare nulla. La morte è ovunque, si avvicina sempre, è sempre in agguato. Infatti abbiamo perso June, la sorella di May, poi abbiamo perso May, Kenny si è trasformato, non è più umano. I quattro rimasti, Corey comunque è ferito ma sembra stare bene, abbiamo Shannon, la protagonista del primo Obscure 1, una delle protagoniste, insieme a Stan, anch'esso protagonista di Obscure 1. Abbiamo il vichingo, Sven. Ci sarebbe anche Amy, ma Amy al momento non è reperibile perché è tipo imprigionata. Panello di controllo, si è imprigionata, non ce lo fa vedere ma l'abbiamo visto nella puntata precedente con... Come si chiama lei? Shannon, Shannon e Sven, si con loro due. Detto questo, bando alle ciance, io direi di andare avanti, subito. Andare avanti ma dove? L'ascensore è fuori servizio. Ok. Quindi? Eh ma non ho il saldatore. Ma devo uscire? Torna indietro così. Ok. C'è qualcosa che posso fare o no? Sono un attimo smarrito. Come mio solito, tra l'altro. Sì, devo andare alla ricerca di quel saldatore. Indubbiamente. Potrebbe essere da questa parte. Perché magari con Sven posso fare qualcosa che non avevo fatto prima. Mi sono dimenticato. Vediamo un po'. Forse Sven ha la forza necessaria per aprire qualche porta. Io ci spero, eh. Ah, l'altra porta che mi diceva non la posso aprire. Forse Sven, sì. No, non era qua. Era più avanti. Dimmi di si Sven. No. Eppure... Il saldatore da qualche parte c'è, eh. Se no non vado avanti. Che cosa ho sbagliato? Che cosa ho perso? Che cosa mi son perso? Qui ho preso, ovviamente, quello che dovevo prendere. Forse più indietro. Da qualche parte deve esserci il saldatore. No, qui si è rimesso tutto com'era? Un attimo. Non è che qui c'è qualcos'altro che... Perché non mi ricordo. Era lì. Mi c'è caduto adesso l'occhio. E c'è anche qualcos'altro. Cos'è? Ah, un fumogeno. Un altro. Oh, era lì. Non l'ho visto. Davanti ai miei occhi c'erano quei... Quegli armadietti. Io neanche li ho... Non li ho neanche cagati. Perfetto. Chiedo scusa. Avrei dovuto prima trovare il saldatore e poi andare nella... Vabbè. Tra l'altro io pensavo che fosse... Che il saldatore si trovasse... Nell'altra stanza. In quella... Delle chiavette. Invece no. Vabbè. L'importante è averlo trovato. Era subito lì. Lo sapevo più o meno. Però... Sì. Ce l'ho. Adesso ce l'ho. E l'ascensore funziona. Peccato che non possa più salvare. Ho già sfrecato il salvataggio. Se dovessi fare qualche gaffa dovrei... Cigola un po'. Amy è viva. Sta bene. No ancora. Kenny. Vuole la rivincita. Cosa l'hai fatto? Cosa l'hai fatto? Prendi la tua fredda. Cosa l'hai fatto? Cosa l'hai fatto? Cosa l'hai fatto di rispettare le donne, Kenny? Conciarazzi. Flashball. Non ho più la dinamite. Mi dispiace. Balestra. Ma io non avevo preso dei colpi dalla balestra? Non dovrei avere altre... Non dovrei avere altre... No, delle frecce, scusate. Non lo so. Do la pistola Shannon. Questa me la prendo io, il fumogeno. Lo riveliamo di colpi. Proviamoci. Mi fa male, eh? Dovevo fare tipo qualcosa qui, sì. Ce la posso fare. Muoviti. Il controller va, miracolosamente. Sì. Ha funzionato. Le casse. Ah, arrivano altre casse. Che faccio? Un attimo. Non voglio sprecare la molotov. Eh sì, la molotov. Il fumogeno. Quindi... Eh, Shannon sta sparando. Ha sprecato i colpi. Perfetto. Shannon ti do l'immobilizzatore. Perché tanto mi sprechi i colpi e basta. Eh... Lancia razzi? O la flashball? Proviamo con la flashball. Farà qualche danno. No, l'ho mancato. Uh, lo ce l'ho qua. Dai, 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 dai. Muoviti. Vai. Non uscirai vivo? No, dai, dai. Ti prego, non mi abbandonare, controller. Non mi abbandonare adesso. Ok. Lo distruggerò prima della fine, il controller. Mi si demolirò il controller. No! Eh, ma... Eh, ma, eh, ma, eh, ma. Proviamo il lanciarazzi? Non ho altra scelta. Cioè, no, non stare lì, cavolo. Eh, lentissimo. Però fa male. Forse fa male. Sì, sì, no, no, vai. Vai, 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 vai. Muoviti. Guardate com'è lento. Però se riesco a muovere, non devo cambiare. È già una buona corte. Sì, tre volte, tre botte. Spapo la testa. Tra l'altro non è contentissima Shannon, però. È sempre il suo fratello. L'analogico è sopravvissuto, per ora. Me lo ho dovuto fare, switchare da una cosa all'altra. Al salvataggio di Amy. Eh, sì, va bene. C'è un salvataggio. Com'è messa Shannon? Male, 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 male. Chissà come staranno gli altri. Allora, allora. Shannon usa pure il... Posso levare un po' di roba. Voglio ottenermi le armi migliori per i boss. Non amo particolarmente le mazze, però... Contro i nemici normali vanno bene. Vanno più che bene. Poi Shannon li immobilizza, o... Chiunque sia, col... 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 Col taser, chiamiamolo taser. Posso salvare? Salvo. Che qui i salvataggi sono limitati, ma conviene sempre salvare. Già, visto che ci sono. Tanto vale ad operarli. D'accordo, andiamo. Detto questa porta, ci sono brutti ricordi. Ma sono sopravvissuti tutti questa volta, non è... Beh, sì, è morto Kenny. Possiamo dire che è morto Kenny. Che cavo... No! Maledette! Le sistemo io! Eh... Guarda... Il ponte è rotto, non è più possibile attraversare da qui. Grazie a queste stronze, no. Vai, trovo un'altra strada. Yuhu, di qua. Ammunizioni per i lanciarazzi. Sono contento. Non ho usato neancora... Non ho mai usato la balestra. Tra l'altro. Questa non è neanche una porta. Sta male Kenny. È Kenny Corey. Ce l'ho con Kenny, eh. Sì, e va lui di qua. Non cadere giù. Sì, perché se non premo l'Y e mollassi il tasto... Ehi, ma come viene lei? Ok, io vado avanti, ma... Lei? Colpi. Che cavolo succede? Ah, ha fatto... Ah, ha fatto... Sì. Ha messo quattro assi in croce e ha permesso a Shannon di passare. Che gentil'uomo è il nostro Corey. No, e vabbè. Mettilo a terra, velocemente. Ok. Puoi, due colpi qui, due colpi di là. No, volevo allontanarmi. Ce n'è ancora un altro? Un altro Cicciabomba. Allora, mi allontano. Va giù. Altre due mazzate. Scusami. Eh, non lo faccio apposta. Non l'ho fatta apposta. Quando ti colpisco? Io non lo faccio apposta, Shannon. D'accordo, non c'è niente. Non sto più usando la motosega. Eh, vabbè. È diventato un po' obsoleta. Per ora. Non c'è niente. Ne stanno passando veramente tante i nostri. Sì, non c'è niente. Shannon è anche lui. Ma Kenny non ci preoccupare più di più. Cool. Ora, ascoltiamo. Abbiamo escapato dal lago in boccia. Stan e il professor contattano me. Sono lì, sull'isla di Turtlestone. L'abbiamo perduto in foglia. Escapati lì se puoi. Siamo cercando di sottotitoli con Amy. Ok, facciamo il nostro best. Più facile a dirsi che a farsi. Andiamo avanti. Oh, ma funziona meglio il controller. L'ho maltrattato. Adesso il personaggio corre. È un miracolo. A volte bisogna maltrattarli. Un'imbarcazione a pezzi. La sua carena è coperta di muffe. Due casse. Forse questo... Dimmi di sì. Ma anche no. Ma scommetto che quest'altra qualcosina ce l'ha. Non ricordavo questa location. Ah, munizioni per il flashball. Sai cosa fai, Laura Corey? Visto che... Visto che io ti consiglio di ricaricarle. Vorrei della dinamite, che sarebbe ancora meglio, però. Carica. Carica. Ed è buoni. Tanto ti basta la mazza, Corey. Non hai bisogno d'altro per il momento. Questa è buona, vero? Un'imbarcazione appesa con la prova verso l'alto. Potrei tirarla giù. Controlliamo qui. Si può entrare? No, col cavolo. Sarebbe stato bello, ma... Non è possibile vedere all'interno. È troppo buio. Eh, vabbè. Ma tu c'è una torcia. Potresti vedere, non trovare scuse. Guarda, il pontile porta le acque scure. Allora la tiriamo giù? Ah, insieme? In contemporanea, vai. Voilà. Dai, facciamoci questa... Gita in barca. Sarà molto piacevole, insieme ai mostri. Andiamo a pescare qualche pesce. Magari qualche trota, non lo so. Abbandona la riva, eh. Ormai non ho più niente da fare. Ah, nuota lui. Va bene. Dritti, così? Oh, ma no. Eh, queste me menano. Corri, eh... Corri, eh... Rema, Corri, non Corri. Rema con la forza che hai. Brava, brava Shannon. Così si fa. Cioè, per me sarebbe inutile Fermarmi. Fermarsi è inutile perché conviene muoversi e andare direttamente verso la nostra destinazione. altrimenti perdo... Ah, la vedo, la vedo, la giù. Ok. Carica, carica. Abbiamo preso due piedate. Come sta? Ma, insomma... Sopravviverà dal nostro Shannon. Ah, siamo già arrivati. Turtle Stone Island. Qualcuno rompe già le palle con i ragnetti. Normale che Shannon ha la mazza da baseball. Qui dentro? Niente? Pensavo di trovare qualcosa di utile invece nada. Nada de nada. Una biforcazione. Andiamo a destra o a sinistra? Controlliamo di qua, ma... Uh... Fumogeno. Fumogeno non è male. Non ha nulla da invidiare alla dinamite. Ah, da dove si vanno? Lasciati soli! Qui! Nel tuo face! Non ci lasciare in pazienza? Perché hanno una faccia i ragni? Ragni troppo cresciuti? Fa male, fa male, fa molto male. No, ma dove sto andando io? Scusami. Scusami, gioco, ma... Ah, di qua? No, non c'è niente. Ah, vuoi vedere che serve la moto? Sega? Dimmelo, dimmelo! E infatti... Solo che mi dispiace utilizzare la moto Sega perché... Precludo a Shannon la possibilità di utilizzare il Taser. La pistola elettrica. No, questo spara... schifezze. E vai! Ti massacro! Ti prendo a... A parte che non fa... Ma che... Ma lo sto facendo il danno? Scusami, ero preso dalla foga. Non ho neanche rispetto per questa creatura. Ho usato semplicemente la mazza. Dai. Siringhiamo il cuore. Crea un siro migliore. Ma ho un solo siro. Non dovrei averne due, mi sbaglio? No, ne ho solo uno. Eh, Shannon è malconcia. Quindi meglio per lei un... Un medikit. Allora, potevo... No, ma qui puoi salire su. Ok, ma io sono arrivato da qui. Quindi se vado di là che c'era il ragnone forse trovo... No, non trovo niente. Ci speravo, ma no. Adesso ti isso su, Shannon. Vieni. Lo sto facendo. Tra l'altro serve necessariamente il tuo aiuto perché qui abbiamo l'oscurità. respira. Togli il respiro. Shannon è una ragazza che toglie il respiro. Eh, sì. No, non mi dire che devo riandare in barca un'altra volta, no? No, forse sono arrivati loro con questa. Dai. Eh, ammettilo, Shannon. Un'altra morte. Quante vittime possono esserci? mai troppe in questo genere di videogiochi. Guardate che inquadratura. Bella, eh? Così. No, io volevo salire su. Ok, da un lato vai giù, dall'altro vai su. Ci facciamo una birretta? Qui c'è un altro cadavere. Anche un salvataggio. Bene. Niente. No, un attimo. Non tocchiamo il fiore. Qui c'è un distributore. Diamogli una bella ammazzata. E vedi come esce la bibitina. Ok, salva. Si può ancora andare avanti. Si può andare, si può andare. Si può ancora fare. Non è ancora finita. D'accordo. Ah, ok. È lì. Ma io voglio girare prima dall'altra parte se è possibile. Se mi fai fare un attimo l'altro giro magari trovo qualcosa di utile. Magari no. Puoi tornare giù? Sì che puoi, vero? Cambiata anche la musica. No, perché qui magari c'è qualcosa. C'è questa inquadratura magari trovo qualcosa di utile. O sono arrivato? No, mi sa che da qui sono arrivato. E infatti era dove... Sì, il mostro. Il ragnone gigante. Niente, allora. Pensavo fosse un'altra strada. D'accordo. Non fa niente. Non è un problema. Andiamo dal prof. Dal professorone. No, vai su Shannon. Non giù. Su, devi andare. Su. Corri, Shannon. Corri? Ok. Mi viene appresso. Bene. Prof, prof. Che roba. Ha un ragno? C'è un ragno che poi sembra più un parassita. ma... Io li chiamo Rania. Arachnidi. Ma era Amy? E Sven? Ah, di nuovo. Ok, Sven ed Amy sono assieme. Stanno assieme. A parte che non so dove... E' qua. Eh sì, è stata... Diciamo... Un cadavere. È stata violata Amy. Ma si poteva intuire la cosa. Era abbastanza palese. Dai, cerchiamo un... Un... Un posto dove attraccare. Così scendiamo. Forse laggiù. A me non ci sono quegli esseri che ti tirano le pedate. Ti mettono i piedi in faccia. Vai. Sono da tutt'altra parte. Carica. No, aspetta. Aspetta un attimo. La motosega togli la Amy. Tu usi questo e uso... Dai, aiutami. Ok, è atterrato. Ancora vivo. Oh, ma è un duro. Un duro. blondo come una norwegiana goddess. Un valvore. Sven, tu stai prendendo la routine scandinaviana un po' troppo a farlo. Sento che sei nato in Norvegia, ma, in realtà, hai vivuto qui tutta la tua vita, non ti? Ah, quindi Sven, sì, elogia il suo paese di origine, ma non è mai stato in Norvegia. Alla fine è uno Yankee come gli altri. Qui c'è qualcosa. Lo vedo, lo vedo. Cos'è? ha una bevanda. La bevanda energetica, il Red Bull, la Red Bull, il Monster Energy. Facciamo tutti i nomi, facciamo pubblicità. Un cimitero. Qui non ci sono mai cadaveri nei cimiteri. Amy dovrebbe essere in grado di capirci qualcosa. Vai, Amy, usa il tuo cervello. Tu sei una bionda con il cervello. non hanno fatto il classico cliché negli horror con la bionda senza cervello, la prima che di solito muore, invece la nostra Amy è dura, è dura. e parto magari da questo che è l'alto, la parte alta sinistra. Bisogna usare il cervello in queste cose. non è il suo alloggio? No, perché se no me lo... no, infatti. E allora è questo qui? No. Oh mai. Vabbè, dai, non facciamo gli stupidi, facciamo le cose fatte bene, sul serio. Questo è il lato basso, indubbiamente. Questo deve essere il lato alto. Poi, questo potrebbe essere un lato tipo centrale, però no. Eh, ma se non so gli altri, è inutile. Questo è un lato alto, sì. Di qua. Infatti. No, che cavolo. Ok, quello è tutto giusto. Quindi, questo potrebbe andare qui, potrebbe, e infatti ci va. Poi, abbiamo, questo qui, il lato basso. Questo va qui. Questo va su. Vedete le cose come si, come combaciano, come collimano. no, questo non va lì. Non è il suo alloggio. Ah, non va bene. Ah, andava lì così, allora, questo va giù. no, scusate, che cavolo dico, questo va su. Questo va qua, e gli altri di là. Se lo metti, Amy mi fa un favore. Ok. Voilà. Cos'è un demone che viene morso da un drago, che si attorciglia con la coda un altro drago, e di là c'è una fenicia, che roba è? Ah, devo, sì, premere i pulsanti in base, lapide ricostruita. Esatto. Mi serve la prospettiva. E Ecco la lingua, ok. Quindi, di qua. Guarda. Ah, fa vedere, appunto, devo levare quelli che non c'entrano un cavolo. Questa c'era, sta coda così strana? Non mi pare di no. Sì, ma se ti levi, esatto. Quello c'è. Non c'è la signorina. Nemmeno questa. No, questa è parte della fenice. Questa non c'è. Questo c'è. Wow, quello potrebbe anche esserci, quella pinna. E invece no. Questa non c'entra un cavolo. Quello c'è, sì. Gli morde le chiappe. Ok, questo cos'è? Questo guarda in là. C'è? No, non c'è questo, infatti. Ecco, a posto. A posto, a posto. Infatti, se mi metto qui, dovrei, se ti levi, infatti, un enigma, tutto sommato, semplice. Andiamo avanti. qui mi fermerai anche qui. Il cimitero è tranquillo, i morti non fanno del male a una mosca. Che ne dici, Emi? Vuoi fermarti qui? È un posto romantico, eh? Eh. Adentriamoci. L'isola delle tartarughe. E non ci sono tartarughe. Bensì, creature orrende. Speriamo di un amico. Ma non ci credo. Ceppi appena tagliati, deve essere abitato laggiù. Eh, se ci sono dei ceppi, sì. Bisogna vedere se sono freschi. Guarda, un invadente boschetto. Oh no. Quello è enorme. Dov'è? No, ci sono anche altre nemiche. Un attimo, allora. Se la mettiamo così, eh, io, siete troppi, eh, per me. Ok, quando si atterra, magari due colpi. questi qua non mi fanno paura, sono piccoletti. Sto arrivando, Emy. Fatta. Un po' di cuori pulsanti. Abbiamo due sieri. Come stai, Emy? Sì, va bene. Meno male che avevi il fucile, Sven. Una lavatrice insanguinata o arrugginita. Forse è più arrugginita che insanguinata. Sposta la Sven. Tanto non è, non è carica. Non c'è il bucato. Ah, una serretta? E' una giungla in qui. Eh sì. Una bevanda. Ehi, questa è la flora che abbiamo usato. Chi che vive qui, la crema. ma lo puoi salvare all'infinito, no? Magari. Sì che fortunatamente non sono morto, però ho rischiato varie, ho rischiato soprattutto contro, nel primo scontro con Kenny che non vedevo una mazza. No! No, Sven! E' andato anche Sven. Catturato. No, è quello deformato, quello delle, della fatura di cronaca, vi ricordate nel secondo episodio che l'avevano visto, che l'avevano visto Amy e Corey. Andiamo. Carica. Uh, era scarico. Quindi fanno la stessa strada loro? E carica. Eh sì, c'è del tenero, aveva ragione Corey, tu volevi negare. dobbiamo andare. Ehm, va bene. Come siete, bene, sta arrivando. Che cosa è in coppia? Ma tu mi prendi per il chiuolo? Non è possibile. Eh sì, sono quelli di Leaf e More. Questi sono duri. Ok. Va bene. Uno è andato, adesso mi basta prenderlo ammazzato e l'altro. È duro, è duro. Non muore, non muore, non muore, è morto. C'è ancora qualcun altro laggiù? Beh, ricarica. Non ha mai fatto male a nessuno la ricarica. la batteria è fulle, è ok. Sì. Qui abbiamo preso, abbiamo preso la bevanda con Sven e Demi, quindi non c'è più. Suona le campane, suona la campana, din, din, don, da. Sì. Effettivamente. Prima o poi dovremo combattere anche contro quello lì. Il tizio deforme, non c'è più il... nooo, eeeh, vabbè, ma questi siete in 3.000. Sarà duro, eh? Tenerne a bada 4. Ah no, sono 3? È quasi andato, Sven. Eh sì, Sven, eh... Stan, Stan, Sven. Possiamo creare un siro migliore questa volta. più strong. Vabbè, non ti serve il super siro. Siro normale va benissimo. Eh, magari uno anche a Shannon. Vabbè, a Shannon magari le do una bevanda. Ipoglicemia. Qualcosa... Nooo. Ah, si è rotta... Ok, non c'è, nooo, non volevo sparare, che cavolo. Scusami, tesoro. Niente, abbiamo perso la nostra possibilità di entrata. Intanto il controller sta di nuovo dando i problemi. Dovrei dargli un'altra svalvolata. Ah beh, lui può forzare. Sì, certo. Corey e... Amy e gli altri. No. Ho sbagliato. Allora, non può andare in su di là. questo magari è più problematico, eh. Perché non va più in giù? Ah, è questo qui il problema. Non va più in giù di così? Però può entrare di qua. Ok. Voilà. Yes. Ti daremo un premio, Stan, un giorno. che bella casetta. Cos'è? La pelle umana? Ci viveva anche Letterface? A parte che... Ok, no, ma... non vedevo la strada, un attimo. Questo ripostiglio è serrato. Sì, Shannon lo può fare, ma un attimo. Un ritratto. Salve, faccia da funerale. Salve, faccia da funerale. Carne che marcisce all'aria aperta. Ah, una chiavetta! Quindi qui c'è qualcos'altro. Libri scientifici. una foto di classe vecchia muffita sul muro. Ma, è una motosega quella che sento? Mi sembrava di sentire tipo... tipo una motosega. C'è tipo una croce lassù, però non la può prendere... No, questa la può prendere solo Corei. Non può fare niente. Perché sento anche il cuore pulsare. Vai, togli il... l'anatema. Voilà. E anche questa è fatta. Ah, è Corei. Quindi torna indietro con lui. C'è veramente una motosega, la sento. Ah, qui c'è la... eh ma ne ho solo una. Un'altra chiavetta è lì. Et voilà, le siamo a due. Salve prof. Ah. ma lo sta facendo a pezzi, mi sa. Potrei andare su, ma... prendi. C'era infatti un... mamma e papà non verranno più. Jeddia. Jeddia. È tutto solo, è tutto solo, tutto solo, tutti gli altri sono cattivi, devo punirli. Come vorrei un salvataggio? Ma c'è qualcosa... Qui salgo su, ok, non è il caso di salire. Se non trovo un salvataggio non posso andare... non posso andare. torna indietro e prendi con lui prendiamo... No, veramente voglio... 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 Corey è l'unico. Ok. Corey, vai, tu puoi farlo. È veramente una motosera. Lo sta facendo a pezzi, poveraccio. Croce. Lasciati pure cadere. Ma quindi... Eh... Sì, ho due chiavette. L'altra va lassù, cioè va lì, va qui, va lì, va qui. E... me ne manca ancora una. Ok, qua si può andare. Ed eccola qui la chiavetta, la cercavo, c'è. Adesso devo solo cercare un salvataggio. Guarda. C'è gioia e tagliassepi, gli armi di un giardiniere. E magari un giardiniere è il deformato. Lo scherzo della natura. C'è nient'altro? No, c'è una porta qui. Ah, dalle... dalle piante, sì. Uno strano fiore nero. Si mettono un attimo indietro, scusate. Troppe emozioni in poco tempo, non va bene. No, voglio mettere assolutamente la... voglio mettere assolutamente le chiavette per vedere che cosa c'è. Sì, ma un salvataggio, no? Torcia di Uber. Anche questa va... Ah, e forse è ancora meglio dello storditore. L'ho data a lei, vediamo un po'. Se vado su, c'è un salvataggio o no? Prendi? Cosa prendi? Ah, un fumogeno. Vedete che si infrangono. Ah, aspetta. Porta è bloccata. Porta è bloccata. Torniamo giù. Lì posso aprirla solamente con... Ah. Con il nostro... Ah, il salvataggio. Esamina. Queste pietre di attraverso... Prendi, ha un altro documento. Ho trovato papà, era molto ferito. Avrò cura di lui. Sogna i fiori adesso. Nessuno lo toccherà. Beh. Niente. Ah, medikit. Un altro medikit. Ah, è lì. Sven. Ah, la... Ci vuole... Ho capito. Una l'abbiamo, una croce. Una sola. Quindi Sven è lì, per salvarlo bisogna andare ancora avanti. Solo che io inizio a essere un po'... Ah, ma è inutile, no? Lasciamo stare. Non facciamo nulla, non facciamo cavolate. niente di interessante. Controllo solo, velocemente, lì nel... come si chiama? Nella porta, e poi basta. Uno era di qua, giusto? Sì. E l'altra di là. E poi salvo, almeno non devo rifare queste cose, queste cavolate. qui andavamo alla serra, giusto? Di qua. Guarda, piante un po' accortocciate, ma altrimenti in buona forma. Beh, un caricatore, quindi qualcosa c'era di utile. Uno strano fiore nero, sì, non c'era niente, a parte il caricatore, ok. mi prendo un secondo, Stan, e... Stan, sì. Giusto. E apriamo quella porta di sopra, poi vado giù e salvo, e basta. Magari vieni con me. Porto magari anche lei. Facciamo un cambio. Cambiamo un po' i personaggi. Intanto Stan mi serve, l'altro non lo so, se poi mi serve qualcun altro. D'accordo, questa sembra una serratura semplice. Apparentemente. Col cavolo. No. Ah, sotto non entra. Vabbè. Vabbè. E no, dovevo tirare giusto la... Questa qua dovevo tirarla su. Poi parto da qui, vado qua, vado giù, tiro su questa. No, c'ero. C'ero, c'ero, c'ero. Tiro su questa. Dai, che c'è... no, c'eri, bastardo. E' dura, questa serratura. Ci sono serratura? Non farò mai il ladro. Lo sappiamo entrambi. sento dei passi. No, e c'entralo. A parte che mi conviene tirare questo su al massimo, puoi passare da qui, tirare giù questo, tirare su quest'altro. Forse converebbe tirare giù. No. Proviamo un po' così. Quasi, eh. Ci sarebbe quasi, per un pelino. Quindi, questo va su, assolutamente. No, devo prima tirare il... il tre, il terzo che è lì. Verso l'alto. Poi, vado giù di qua. Eh, un attimo. mi stai mettendo fretta. Capisco che ci tieni a lui, però. Ah, non va più. Sì, non va lì perché l'ho tirato troppo in alto. Vai, tirarlo su, Ah, non va più di così? fuori passi. Fuori passi. Volevo finirla qui velocemente, invece, adesso sto perdendo un casino di tempo. Ci sono, ci sono, dai. qua. Una serratura un po' bastarda. Una maschera. Si può andare? Si può entrare? Sì. Umba. Ah, delle foto. a questo mostro sembra piacere le foto, i bambini. Emi, devi darci un'occhiata. Vieni, Emi, capiti a fagiolo. Ah, la foto. Ah, eri già deformato. Ha anche la posizione delle statue, con le croci. C'è dei piedistalli, sì. Non si voleva vedere in faccia, quindi ha spaccato il vetro. Sì, ma a me manca un altro, apri. Questa si deve aprire, allora. Vetro, va bene. Se c'è il vetro, meglio così che non la serratura. Pupazzi, clown. È una stanza dei bambini. I bambini con le foto hanno decappato. Vecchi giocattoli, guarda, un vecchio giocattolo. Ci sarà, sarà qui la croce. Vecchi giocattoli. Un box vecchia, vecchio. Con i fiori Geddadia, non fa brutti sogni, quando la mamma era qui. Altre persone sono venute, sono venute a darmi noia. Non usciranno mai da qui. Indubbiamente. Però non ho trovato, pensavo di trovare... Vecchio. Quanto alla casa. Pensavo di trovare la croce, invece non... No, forse è qui dentro. Eccola, infatti. Pareva troppo strano. Il letto baldacchino è tipo fuori di testa che vive qui. Ok. Piuttosto disgustoso. Bene, andiamo, finalmente. Magari mi tengo l'oro a questo punto, tanto è inutile cambiare. andiamo di sotto, salvo e basta. Se no, troppo lunga. È sul più bello, lo so, ma lo scontro con... O il salvataggio di Sven, lo scontro lo vedremo nella prossima puntata. Sì, ho fatto bene ad andare ancora un pochino avanti per... e... 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 Grazie a tutti